bentornati su my football jersey l'avrete riconosciuta questa è la prima maglia del barcellona per la stagione che sta per iniziare in edizione fan l'edizione player l'avevamo già vista trovate qui in alto la recensione per la stagione la maglia del barcellona non può mai mancare tra l'altro al costo che vedete qui sopra che dire imperdibile vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi diventa ancora più vantaggiosa prima di lasciarvi vi prego di lasciare un grande like ma soprattutto di iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan